Ciao a tutti amici di Player Inside, eccoci qua con una nuova top. Oggi parliamo ed esaminiamo le missioni più strane nei videogiochi. Abbiamo già parlato delle missioni secondarie più belle, adesso parliamo di quelle più strane, perché ce ne sono alcune veramente bizzarrissime. Potremmo dire strane. Potremmo dire strane. Strane, sì. Strano, sì. In The Witcher 3 abbondano le quest secondarie bellissime e non mancano anche quelle bizzarre. L'espansione Blood and Wine include una missione in cui Geralt beve un intruglio allucinogeno che gli permette di... parlare con il suo cavallo Rutilia. Le conversazioni con Rutilia sono esilaranti perché sfondano la quarta parete. Potete infatti chiederle come fa a spuntare sempre con un fischio e come mai si blocca sempre davanti ad uno steccato. Geralt inoltre si stupisce che Rutilia abbia la voce maschile. E giustamente Rutilia risponde, ma tu che ne sai che gli animali hanno la voce maschile e femminile, con quanti animali hai parlato? Nessuno, quindi che ne sai. Ma infatti, ma tu che stai parlando con un animale, sei strano. Diciamo che su The Witcher, The Witcher 3, ha delle missioni stupende. Infatti nella top delle missioni più belle, secondarie, non c'era. E nei commenti tutti hanno detto, ma come non avete messo le mie certezze. Vabbè, perché noi ne facciamo tante. Esatto, potremmo riparlarne in altre puntate di top. Che cosa c'è di meglio che prendersi una meritata vacanza e solcare i mari su una nave? Esplorare in lungo e largo i mari di tutto il mondo è una cosa fantastica? Penso, perché non l'ho mai fatto e a meno che non soffriate di mal di mare, in quel caso può essere problematico. Ma ovviamente io sto dicendo di farlo in modo virtuale, mica reale. Pensate che palle reale. Cioè, che uno... Sì, ok, carino, una volta, una grogerina, ma poi... Se a questo ci aggiungiamo che le navi in questione possono anche sparare... Ecco, e da qui in poi gli sviluppatori ci hanno chiesto di far sembrare tutto epico. Ci proviamo. Sì, insomma, stiamo parlando di World of Warships. Che è un gioco gratuito sulle battaglie navali epiche, fantastiche e incredibili contro altri giocatori. In cui ci sono 600 navi da guerra storica con cui dominare in alto mare. Spero che agli sviluppatori vada bene così, più di questo io... World of Warships è disponibile su tutte le console su PC e si può giocare in co-op con amici, in squadre. Ci sono 5 diverse classi di navi, tra cui sottomarini recentemente aggiunti per un'esperienza di gioco diversa. C'è un'ampia personalizzazione per le navi, si combatte contro giocatori da tutto il mondo, le mappe sono dinamiche, il tempo cambia durante le partite e il gameplay tattico incoraggia il lavoro di squadra e le decisioni strategiche. Che che voglia dire? Per capire di che cosa stiamo parlando vi invito a farle due o tre partite a World of Warships. D'altro canto è gratuito e cliccando sul nostro link in descrizione non solo supporterete enormemente il nostro canale, grazie, ma avrete a disposizione anche un pacchetto esclusivo del valore di 25 euro con 500 dobloni, 2 milioni di crediti, una nave tier, 4, 7 giorni di premium e 6 punti comandante. Mi piace la cosa dei 6 punti comandante. Non lo so, mi piaceva com'è, sì. Direi di inserire due posizioni in una, le quest da Edric e di Sheogorath in The Elder Scrolls 4 Oblivion e The Elder Scrolls 5 Skyrim. Non c'è da stupirsi, visto che Sheogorath è il principe da Edrico della follia e le quest che offre al giocatore per fargli ottenere il bastone magico Wabajek sono sempre fuori di testa. In Oblivion ci chiede di scatenare alcuni dei segnali dell'apocalisse causando morte e carestia. Dovremo attirare un'invasione di ratti posizionando uno specifico formaggio rubato dall'odore fortissimo così che venga piazzato del veleno per ratti e poi usare quel veleno per uccidere tutte le pecore. Il segnale finale della missione completata? Una pioggia di lupi infuocati. Se questa missione di Sheogorath sembra strana, quella di Skyrim lo è ancora di più. Il principe della follia ci attirerà all'interno della mente malata di Pelagius il pazzo, uno dei più folli imperatori di Tamriel mai esistiti. E ci richiederà di affrontare le emozioni di Pelagius come la rabbia, la paura e sua madre, sotto forma di situazioni assurde ma al contempo significative per comprendere la genesi dei tormenti di Pelagius. Quindi fa ridere ma fa anche riflettere. Fa ridere ma fa anche riflettere. Nel caso di Skyrim. Guarda, se parliamo di Sheogorath o Sheogorath, insomma... Vabbè, diciamo, in modi diversi... Ho saputo l'altro ieri che si dice Paco Cero. Eh sì, sì. Io non c'ero quando si diceva Paco Cero. Andiamo avanti. In Assassin's Creed Odyssey ci si imbatte in una coppia anziana in cui la donna si lamenta che il suo uomo non sia più in grado di soddisfarla. L'uomo si dice stanco e anziano e a quel punto Alexius o Cassandra, insomma il protagonista, può decidere se occuparsene al posto del marito. L'uomo aspetterà fuori per tante ore e... L'hai fatta divertire? Le basterà sicuramente per qualche giorno. Però lei è comunque una bella donna, anche se è anziana e... Allora, io sono d'accordissimo ad andare con le donne anziane. Può succedere anche con Cassandra. Sì, può succedere anche con Cassandra, certo. E a quel punto l'uomo... Dice, ma a questo punto... Come dire, no, rutta per rutta rompevola tu. Cioè, se qualcosa succede... No! In Red Dead Redemption 2 a Sandeni potete incontrare lo scienziato Marco Dragic che chiede al protagonista di aiutarlo a portare a termine il suo progetto, la creazione di un robot. La missione richiede quindi che il giocatore compia diverse azioni strane e pericolose come quella di catturare l'elettricità dai fulmini di un temporale. Una volta aiutato lo scienziato, se torniamo alcuni giorni dopo, la missione assume connotati oscuri. Troviamo infatti lo scienziato morto e se andiamo dall'altra parte della mappa troviamo il robot seduto in cima alla montagna sconvolto dai sensi di colpa che ripete sconsolato la parola papà. Mi sono venuti i brividi ripensando a questa missione strana, bizzarra, ma allo stesso tempo commovente. E vabbè, ragazzi, c'è Red Dead Redemption 2, ma di che parliamo? L'attenzione ai dettagli in Red Dead Redemption 2 è forse la migliore attenzione ai dettagli di sempre. Tra l'altro inseriamo sto gioco praticamente in ogni top. Perché vedi, lo merita. Assolutamente sì. Nella serie Yakuza o Ryo Gagotoku ci sono talmente tante missioni assurde che forse faremmo prima elencare quelle normali. Ma per non dilungarci troppo su questa serie ne abbiamo scelta una di rappresentanza. Yakuza Like a Dragon e gli Yakuza che vogliono vivere come dei neonati, bevendo latte e vestendosi di soli pannolini. Essi cercheranno di coinvolgere anche il nostro Ichiban per poi aiutarlo in battaglia sotto forma di evocazione fuori di testa. Ne abbiamo scelta una abbastanza visibile anche da chi abbia giocato non tantissimo Yakuza Like a Dragon, no? Però porca miseria quante altre ce ne sarebbero di assurde! La serie Fallout parte già da concetti assurdi incorniciati da un velo di umorismo e di classico horror. Le missioni strane sono tante ma ne citiamo qui un paio. In Fallout 2, quando si arriva alla città di Modok, si fa la conoscenza della strana famiglia Grisham, un padre protettivo e i suoi due figli, Miri e Devin, due individui che non brillano per nessuna caratteristica particolare. L'unica cosa che li accomuna è che con entrambi, separatamente, si può intrattenere una notte di passione. In entrambi i casi vi beccherà il padre che vi costringerà a sposarvi. Il matrimonio, specie se avviene con la persona dello stesso sesso, è imperniato di comicità col padre e gli altri che malcelano il fastidio per la situazione. A quel punto il vostro sposo o sposa rimane con voi come companion, scarsissimo tra l'altro, e non potrete liberarvene, a meno che non chiediate il divorzio, non lo uccidiate, non lo vendiate come schiavo o non ne rimuoviate il cervello tenendovelo candidamente in tasca. Quante possibilità offriva Fallout 2 ragazzi, cioè veramente straordinario. Tra l'altro forse è stato il primo gioco, uno dei primissimi giochi che permetteva una relazione omosessuale, quindi è stata una novità diciamo all'epoca, perché poi potevate giocare nei panni di un uomo o di una donna, e intrattenere una relazione con Davin o Miriam. Non ne sono sicurissima. È uno dei primissimi comunque ragazzi, perché siamo ancora negli anni 90, e non era stata sdoganata questa cosa. Andando avanti con la serie Fallout, è veramente tanto bella quanto bizzarra la missione di Silver Shroud in Fallout 4. Silver Shroud è un eroe detective di una vecchia serie trasmessa alla radio prima della guerra. Un fan entusiasta della serie, il Ghoul Kent, vorrebbe riportare in vita la leggenda di Silver Shroud. A quel punto dovremo vestire noi i panni dell'eroe, procurandoci il costume e l'arma di scena al quartier generale della Hubris Comics, e affrontando i criminali come farebbe Shroud in persona, in una lunga sequela di missioni divertenti. La cosa bella è che il protagonista può non uscire mai dal personaggio se vuole, parlando per tutto il tempo come se fosse davvero l'eroe. I tuoi crimini sono rimasti impuniti troppo a lungo. Che cazzo ti prende? Smetti di vendere droga ai bambini. Forfante, se non vuoi affrontare la mia ira. Sei finito, amico. C'è sempre quindi questa opzione, parla come Shroud, no? Esatto, che ti permette di non uscire mai dal personaggio nel tempo che fai tutte le missioni da Shroud. Giusto così, perché è il metodo Stanislavski. Metodo Stanislavski. Chiedo scusa, ragazzi. Lo so, magari siete qua per seguire una cosa seria. Balletto. Chiudiamo il canale, che cazzo ne so? Sapete che ci sono gli UFO anche in Final Fantasy? In Final Fantasy VIII, uno degli incontri casuali più rari e bizzari riguarda un UFO che trasporta ogni volta qualcosa di diverso. Una statua dell'isola di Pasqua, una mucca, una piramide e un cerchio sul grano o qualcosa del genere. Se si trovano i quattro UFO, alla fine si incontra l'alieno in persona, Pupu, un adorabile omino blu da cui possiamo prendere la sua carta unica per il gioco di carte Triple Triad. Però bisogna dargli l'elisir, ovviamente, perché Pupu fa ridere. Pupu fa riderissimo. Perché sai, la ricorda Pupu, no? E quindi dico cacca. Sì, ora non ti elimino da tutti i video di top. Ma scusa. La faccio da solito, tanto le scrivo io ste top. Tu che ridi per Pupu. Le faccio io e baffi. Scusami, tu che ridi per Pupu non sei tanto bene. Perché ridi per Pupu? Ma io ridevo sotto i baffi. In Starfield si trova una vecchia colonia su Titano, chiamata Seconda Casa, in cui è possibile visitare un museo riguardo alla vecchia terra ormai distrutta. Si tratta di una meta per turisti, ma non tutti sono lieti di ricevere queste visite. La dottoressa Giuliana Lakota vi chiede di allontanare i turisti e quale miglior modo di farlo se non indossare il costume di una creatura aliena mostruosa. Il costume da alieno, che altro non è che una mascotte di una vecchia scuola media, spaventa i turisti una volta inseguiti in giro per il pianeta. Alla fine della quest potete tenere il costume che ha statistiche scarsissime, ma volete mettere la pilla estetico? E ricordiamo, sempre a proposito di Starfield, c'è un altro costume ufficiale indossato da me medesimo. Lo facciamo vedere. Io sono pronto, eh? È stato difficoltoso, ecco questo non l'abbiamo ripreso perché c'erano tante bestembe. E toglierselo. Ragazzi ho pensato di rimanere imprigionato per sempre. È vero, non sarebbe stato male. In realtà ovviamente sono tantissime le altre emissioni strane. La prossima volta potremmo farlo cercando di escludere i grandi presenti di questi top, cioè magari The Elder Scrolls, Fallout, The Red Dead Redemption, The Witcher, ecco magari parlare anche di giochi più di nicchia. E ragazzi segnalatecele anche voi, quindi qui nei commenti ricordatevi missioni assurde che avete fatte nei videogiochi. Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao! Il link è in descrizione, va bene così.